poi io ci faccio la cicoria e broccoletti poi faccio la frutta fichi fichi d'india le more io sono cresciuta qui sin da piccola siamo tutte una famiglia di femmine io ho una grande madre che ci ha cresciuto proprio nel lavoro della campagna del giorno dopo il giorno delle piccole fatiche delle piccole conquiste e insieme facciamo tutto questo e questo era in realtà l'azienda di mio nonno dei miei genitori fino ad arrivare a me adesso ti faccio vedere una vecchia strada che si faceva con i muli per riportare le olive sopra eccola qua this way tutto l'oliveto tutto così a mano fatto ma è stretta e piccola so this is where the jonkies this is the road for the jonkies wow so 200 years ago this is how they yeah they even transport the olives wow e qua ci sono tutti i muretti così questi sono tutti i muretti così fino su and so the trees that that we see here how how old are some of these trees and so these are these are all etrana olives all all etrana questa è la mia etrana fatta quest'anno ho cominciato molto presto cominciato già fine settembre and and can we can we taste okay questo è etrana non è bio ok this is your standard etrana okay perfect very sweet like apple chicoria chicoria all the herbs that we saw all the herbs all the fruit okay all in this oil wow you can really taste the land that we just walked through okay this is magical wow questo è di quell'oliveto lì wow è questa it looks like a salad bowl it does like can you is this is this all edible i mean i know this this is this is this is dandelion questo è chicoria oh this is chicory this is wild chicory cc and can you can you pick this now and eat this now yeah sempre la chicoria poi c'è sempre devo dire this is so fun i can just pick everything and eat it do you want to test the organic ah sure sure it's very different very different probably just right the fruit is a little more ripe but still piccante si perché è appena fatto yeah this is a little more mild more soft more soft yeah the fruit is a little more the fruit is a little more ripe i'm getting more like actual fruit on this and a little more herb grass nice okay ho voluto scegliere per la mia bottiglia un etichetta che rappresentasse le donne di sonnino le donne del mio paese dei primi del novecento donne forti che hanno vissuto delle difficoltà ma le hanno superate per loro e per la propria famiglia e quindi mi se mi rispecchio in loro e mi piace questa donna di paese donne vere donne vere so the the women really inspire you in your own industry to to transfer that passion and that hard work into the olive oil into into your business into this this farm that you're running here allora john io ti racconto un segreto quando io ero piccola dicevo io non farò mai il lavoro di mia madre la forza che ti dà proprio il paese il vivere insieme tu ci cresce ti rendono forte proprio la forza di queste donne mi ha portato qua ho imparato da loro a fare l'olio ad apprezzare gli oliveti dove io sono cresciuta per me era scontato no avere un territorio del genere quindi non lo apprezzavo adesso invece mi sento fortunata di essere nata qui è la pianta che stabilisce il ritmo io vado dietro loro and is this is this organic this growth si tutto organica ok andiamo di là good i'm working off all the pasta that i've been eating this little hike ok antonio togliti togliti a mamma ti stanno riprendendo do you think that your son has that same feeling that you do the passion for the land in the area io sto facendo le stesse cose che mia madre ha fatto con me antonio 200 anni in frontumi però io voglio che lui scelga quello che sente antonio un po di cicoria range oh io lo porto sempre con me anche a new york e il prossimo anno saremo io e lui sempre Grazie a tutti.